Agosto è alle porte e gli italiani si preparano alle tanto sudate ferrie, che ancora una volta saranno trascorse soprattutto sulle spiagge. Da un sondaggio di confesi recenti ed SWG emerge infatti che dopo il calore registrato negli ultimi tre anni, il mare ha riconquistato la maggioranza assoluta delle preferenze dei nostri connazionali. Il 53% degli intervistati afferma di preferirlo come meta di vacanza, staccando di gran lunga gli inseguitori. Alla montagna pensa il 12%, alle cittadarie l'11%, mentre solo il 4% ha nel cuore la campagna. La crisi comunque si sente e il 50% degli italiani resterà nel nostro paese, con uno spostamento medio di 400 km rispetto alla città di residenza. Puglia, Emilia Romagna e Toscana le regioni più gettonate. Nonostante la predilezione per le spiagge nostane, però, i numeri sono abbastanza impietosi. Nel mese di luglio i vacanzieri italiani sono calati del 7% e il fatturato ha perso addirittura il 10%.